Allora, stiamo parlando di profilo del Piero Libero e la volta scorsa mi sono fermato mentre stavamo parlando dell'atteggiamento che segue la corrente nell'attraversamento di una brevvia. Ecco, cerchiamo di riprendere da quel punto, quindi estendendo in realtà la nostra trattazione al caso più generale in cui le brevvie siano due, quindi adesso vi faccio un altro schermino. Allora, supponiamo quindi di avere un alveo che, come vi ho detto, è un alveo a forte pendenza, assumiamo che sia un alveo a forte pendenza, noi facciamo questa assunzione perché questo per noi rappresenta un caso tipico nella pratica, cioè di solito quando costruiamo delle brevie su un alveo fluviale lo facciamo per ridurre la pendenza, come vi ho detto, perché le brevie causando un interrimento a monte, appunto, hanno questa finalità di ridurre la pendenza dell'alveo e di solito noi abbiamo necessità di ridurre la pendenza dell'alveo quando l'alveo è a forte pendenza, perché quando l'alveo è a forte pendenza, vi ho detto, di solito la corrente si deve scorrere in condizioni di corrente veloce e quando la corrente si trova in condizioni di corrente veloce può raggiungere dei contenuti reagentici molto elevati che causano l'erosione del fondo, quindi per evitare l'erosione sull'alveo a forte pendenza ci sono sull'alveo a forte pendenza, quindi mettiamoci quindi in questa condizione di alveo a forte pendenza e sull'alveo a forte pendenza, quindi noi possiamo disegnare l'altezza di moto uniforme che sarà inferiore all'altezza critica, quindi avremo la nostra altezza di moto uniforme che adesso devo disegnare parallela al fondo, ecco qua, la chiamiamo, la indichiamo per simbolo con il solito H1 e poi sopra di questo abbiamo la nostra K e la traccio con una linea continua K ecco, l'altra volta abbiamo già dato il caso di una brevia sola, questa è semplicemente un'estensione ecco, vi ho detto che per trattare dal punto di vista qualitativo il problema è opportuno, interessante affrontare il problema per via grafica noi l'altro giorno esercitazione in realtà l'abbiamo affrontato direttamente per via numerica poi contemporaneamente alla lavagna, vi ho mostrato il disegno o forse ho fatto il plot direttamente, non c'era bisogno di fare una lavagna e contemporaneamente è utile comunque fare la risoluzione per via grafica per avere un buon pronto oggi noi facendo una trattazione di tipo qualitativo affrontiamo l'appunto, tracciare un profilo del perolimbo perché anzitutto per via grafica e in questo caso ho fatto la pagina poco bassa in questo caso speriamo quindi di evidenziare il profilo del perolimbo in alto e forte tendenza ecco, il grafico era ancora qui dalla settimana scorsa, l'ho cancellato adesso lo rifaccio ho cancellato perché non mi era accorto che appunto era ancora in posto quindi qui facciamo ancora l'altezza più alto di forma e l'altezza critica e questi profili se vi ricordate sono fatti più o meno così ecco qua ecco qui evidenziamo ancora con H, U e K i nostri due profili molto bene allora l'altra volta vi ho fatto vedere tramite il grafico energia-altezza grafico che vi porto qui ho cominciato a farvi vedere che cosa può succedere quando la corrente che arriva da monte abbiamo assunto in condizione di moto di forma e abbiamo fatto questa assunzione assumendo, ritenendo di trovarci in una condizione in cui a monte non siano visibili disturbi evidenti e quindi possiamo immaginare che la corrente arrivi da monte in condizione di moto di forma arrivi da monte non lo dico a caso perché sia l'altezza di forte pendenza quindi la corrente che viaggio in condizione di moto di forma è una corrente veloce e questa corrente veloce voi lo sapete benissimo può essere influenzata solo da monte e quindi noi possiamo sicuramente volendo tracciare il profilo in blu partire da monte in condizione di moto di forma molto bene e allora io ho cominciato a spiegarvi che la corrente deriva in condizione di moto di forma e quindi avrà un'altezza di moto di forma e di cui possiamo evidenziare con il simbolo H1 l'altezza critica la possiamo pure evidenziare questo grafico con il simbolo K e l'altezza di moto di forma è un proprio contenuto energetico che noi possiamo calcolare perché noi l'altezza di moto di forma la sappiamo avete visto nell'esercitazione che da di là del problema la prima cosa che abbiamo fatto è calcolare l'altezza di moto di forma e l'altezza critica quindi chiaramente conoscendo l'altezza di moto di forma noi possiamo calcolare il contenuto energetico vi ricordo che il contenuto energetico è il pari a in generale H più V quadro su 2G e quindi conoscendo H nel nostro caso l'altezza di moto di forma voi siete anche in grado di calcolare l'area bagnata della sezione e quindi di conseguenza la velocità ecco, in effetti questo si può anche scrivere questo termine come V quadro su 2G di A quadro questo termine qui lo possiamo scrivere così bene, quindi il contenuto energetico lo conosceranno allora che cosa succede? la corrente è che arrivando da monte con quel contenuto energetico che io, badate bene, ho evidenziato qui la possiamo chiamare E di HU che cosa succede? quando la corrente con quel contenuto energetico incontra la britta allora, intanto qui abbiamo bisogno di evidenziare su questo grafico con un simbolo l'altezza della briglia perché che cos'è la briglia dal punto di vista della corrente? è altro che è un brusco rialzo del fondo quindi questo brusco rialzo del fondo rappresenta che la corrente dell'ostacolo deve essere definito e allora vediamo definire questo brusco rialzo e definendo l'altezza della briglia con la lettera lo faccio qui M bene allora che cosa succede alla corrente quando trova quella briglia quando la vede si rende conto che una corrente che subirà una diminuzione di livello energetico pari a M cioè c'è la mia appunto 9 in realtà subisce una diminuzione di livello energetico pari a M perché? perché l'energia specifica E vi ricordo che è calcolata facendo riferimento al fondo d'albero se il fondo d'albero si alza di M perché c'è questo stacolo il livello energetico diminuisce di M allora qui l'altra volta vi ho detto può anche succedere che se questo livello energetico noi lo facciamo abbassare di M lo facciamo abbassare di M è un segno qui può anche succedere che questa M quindi se noi su questo grafico facciamo vedere questo abbassamento di livello energetico può anche succedere che io mi mantenga sempre al di sopra del livello energetico minimo segnato da quei grafici e vi ho detto che se mi mantengo al di sopra di quello del livello energetico minimo semplicemente quello che succede è che io posso su questo grafico lo rifaccio qui perché voglio fare quel caso ovvero voglio trattare quel caso in cui il livello energetico rimane comunque superiore al minimo quindi qui c'è il mio HU qui c'è il mio K qui c'è l'E allora che cosa succede se tracciando il dislivello M io rimango superiore al minimo? beh significa che il livello energetico balza a questo valore al cui corrisponde un'altezza H star che è minore e maggiore scusatemi di H quindi vedete che cosa succede? se io mi abbasso il livello energetico della quantità pari a M e rimango superiore al livello minimo beh io abbassandomi vado a cozzare ecco M lo posso scrivere anche qui contro il grafico di energia ancora nel ramo delle correnti veloci con un'altezza che è superiore all'altezza che muoce in fondo quindi se questo succede di fatto la corrente veloce come vi ho detto salta la briglia la corrente si comporta in questo modo quando trova un gradino basso per cui arriva la moto velocemente e lo scavalca però scavalcando questo gradino subisce un innalzamento quindi questa altezza nuova a testa noi la dobbiamo riportare sulla sommità della briglia se questo succede e quella sarà l'altezza con la quale la corrente la passa la briglia bene quindi praticamente volendolo disegnare quel caso lo faccio qui se noi abbiamo una briglia bassa e la corrente arriva da monte in condizione di moto di forma H1 che cosa succede sulla sommità della briglia? succede che sulla sommità della briglia la corrente passa con l'altezza H star e quindi quello che succede infatti è un attraversamento di questo tipo quello che succede è un attraversamento di quel tipo ecco però io vi ho detto adesso io ho un po' esagerato quel disegno vi ho detto che quella situazione ma la vogliamo evitare perché che cosa succede in quella situazione? succede che la corrente rimane veloce e continua a erodere in fondo è vero che la ralentiamo un po' però di fatto la corrente rimane con una energia molto elevata è una situazione che noi vogliamo evitare ecco fate attenzione nel fare quel disegno voi vi sarete sicuramente resi conto se non vi avrete conto se non vi siete resi conto è tutto normale però adesso ne dobbiamo discutere e di fatto in corrispondenza di questo gradino io non lo chiamo più briglia perché la briglia deve essere tale per cui non ho energia sufficiente per passare in corrispondenza di quel gradino di fatto viene meno la condizione di corrente gradualmente variata per cui fate attenzione che cosa ho fatto io implicitamente implicitamente ho scomposto questo tronco in due tratti prima del gradino e dopo il gradino e per trovare l'altezza sul gradino che cosa ho fatto ho imposto una condizione di bilancio energetico non ho integrato le equazioni del seno venante non ho tirato fuori le equazioni del seno venante le ho integrate non ho usato l'equazione d su ds uguale i meno j scusate d su ds uguale i meno j non ho usato quell'equazione che abbiamo usato in classe l'altro giorno col computer ho fatto tramite il grafico un'equazione di bilancio energetico perché? perché qui non posso integrare le equazioni di sede ho questo gradino che mi dà una discontinuità allora ho imposto il bilancio energetico ho trovato una condizione di valle del tronco di monte che diventa anche una condizione di monte del tronco di valle e io raccordo tra l'altezza di moto riforme e questo gradino l'ho tracciato a sentimento cioè questo raccordo qui io l'ho tracciato a sentimento ecco lo posso fare perché? perché la perturbazione indotta dalla corrente è estremamente localizzata cioè la corrente arriva da monte in condizioni di moto riforme va a passare contro il gradino immediatamente si alza però tutto questo avviene in un intervallo molto limitato quindi mi posso permettere di tracciare questo raccordo a sentimento poi a valle ritorna immediatamente in condizioni di moto riforme perché? perché la perturbazione è limitata e come scende dalla briglia la corrente molto velocemente raggiunge di nuovo la posizione di moto riforme allora vi posso permettere questo raccordo da sentimento ecco guardate bene questa corrente che rimane veloce di fatto come vedete viene influenzata pochissimo dalla presenza di questo gradino allora questo vi ripeto che situazione è la situazione nella quale in cui abbassandomi sulla curva dell'energia della quantità m rimango sopra al valore dell'energia minima molto bene ecco io però quella situazione la voglio evitare la voglio evitare perché io voglio rallentare la corrente non voglio che rimanga una corrente veloce perché se rimane una corrente veloce la riduzione del livello energetico è estremamente limitata cioè il disturbo operato da quella gradino è estremamente limitato io voglio invece fare in modo che la briglia dia una perturbazione più forte in modo che la corrente rallenti e depositi a monte e faccia calare la tendenza dell'albo e soprattutto non sia più una corrente veloce come si fa a raggiungere questo obiettivo semplicemente l'altezza m della briglia la dobbiamo progettare in modo tale e la corrente che giunge da monte in condizioni di moto riforme non abbia energia sufficiente per passare la briglia cioè dobbiamo fare le briglie più alte allora che cosa succede che quando mi abbasso ritorno su questo grafico qui della quantità m mi trovo di sotto il livello che cosa vuol dire vuol dire che non esiste una configurazione energetica in accordo a quel grafico che mi permette di passare su quel gradito bene e allora vuol dire che la corrente deve risparmiare energia cioè la corrente se arriva da monte in condizioni di moto riforme quel gradito non lo passa ripeto eh quella briglia la corrente se arriva da monte in condizioni di moto riforme quella briglia non la passa quindi la corrente deve risparmiare l'energia come fa una corrente risparmiare l'energia ecco vi ho già detto che se la corrente ha un'altezza che è superiore a quella di moto riforme sta risparmiando l'energia quindi la corrente deve crescere in altezza per un certo tratto a monte la corrente deve crescere in altezza si deve verificare quello che in certo tecnico viene chiamato un ripurgito cioè una sorta di ristagno a monte perché intuitivamente pensate anche in modo intuitivo se voi assumete un algio vedete una briglia alta che cosa fa la corrente? la corrente va contro la briglia e poi ristagna e a monte il livello si alza finché hanno raggiunto un livello che le permette di scavacarla questo succede intuitivamente voi immaginatevi andate su un canale mettete giù una briglia che cosa vedete? vedete che la corrente ci cozza con poi a monte si accumula dell'acqua fin tanto che la scavalca ecco questo succede ma così facendo che cosa fa la corrente? ha alzato il proprio livello a risparmiare l'energia quindi vedete che l'evidenza l'evidenza proprio in tritino ma ciò che voi osservate trova una corrispondenza nella teoria perché la corrente alzando si guadagna energia è anche intuitivo questo se pensate al fatto che se il pelo libero si alza chiaramente l'energia della massa d'acqua aumenta l'energia potenziale in questo caso accumula dell'energia potenziale e fa sì che l'energia aumenti quindi questo deve succedere e tra l'altro questa non va anche bene perché l'acqua ristagnando il materiale in sospensione che porta lo fa depositare perché il materiale in sospensione viene mantenuto in sospensione dalla velocità elevata della corrente l'acqua ristagna chiaramente i sassi si depositano e dove si depositano la monta della briglia perfetto così diminuisce la tendenza bene allora a questo punto però bisogna che introduciamo un'altra considerazione che ci permette di capire cosa succede qui e cioè questa corrente che arriva da monte veloce e cosa ne succede? viene influenzata dall'ostacolo che sta a valle viene influenzata dalla briglia ecco però noi sappiamo che questo non è possibile una corrente veloce una corrente veloce non può essere influenzata dall'ostacolo che sta a valle semplicemente la corrente veloce è influenzata solo da monte allora se ne deduce in modo del tutto conseguenziale che l'unico modo per cui la corrente possa essere influenzata dalla briga di valle e possa risparmiare energia è fare un passaggio in lenta questo è inevitabile quindi la corrente deve passare in lenta deve fare un passaggio in condizioni di corrente lenta attenzione questo che io ho detto che è inevitabile lo intuite anche se fate riferimento a quell'immagine che vi ho detto prima cioè la corrente che arriva contro la briga e deve alzarsi e nell'alzarsi che fa? praticamente si ferma e quindi diventa certamente lenta poi è chiaro che la corrente nel momento in cui arriva all'altezza della briga riprenderà a muoversi però nel frattempo ha raggiunto un'altezza tale che si muoverà lentamente quindi la corrente deve passare in lenta ecco noi non sappiamo ancora che cosa succede quando una corrente veloce è forzata a passare in lenta adesso lo vedremo in realtà su quello che succede è abbastanza semplice però adesso lo vedremo allora questa corrente passa in lenta e che livello energetico deve raggiungere? bene allora prima di tutto se passa in lenta facciamo un riferimento a questo grafico che è un po' piccolo ma vediamo di venirne fuori allora noi partiamo da un livello energetico e di HU da monte ecco vedete qui allora questo livello energetico a questo livello energetico corrisponde l'altezza di moto uniforme HU ma possiamo fargli corrispondere anche l'altezza di corrente lenta se noi prolunghiamo questo livello energetico dall'altra parte troviamo l'altezza di corrente lenta ecco quella è l'altezza di corrente lenta che corrisponde a quell'energia però attenzione non è sufficiente quell'energia a passare la briglia allora la mia domanda è qual è l'altezza di corrente lenta che permette alla corrente di passare la briglia qual è? allora attenzione beh ragionando su questo grafico io mi rendo conto che questa energia perché non è sufficiente? perché se mi appasso M sono sotto il minimo allora questa energia deve salire per cui io da questo punto salgo sul ramo delle correnti lente e mi porto a un altro livello energetico questo è quello che fa la corrente se risparmi energia e a cosa corrisponde questo livello energetico? corrisponde esattamente al livello energetico minimo che le permette di passare la briglia più è più e a questo livello energetico corrisponde un'altezza di corrente lenta che chiamiamo H dunque la chiamiamo HM o meglio scriviamo H di monte così è più chiaro allora attenzione vi ripeto cosa ho fatto parto da monte con un livello energetico E di HU solo in condizioni di corrente veloce quindi solo in corrispondenza dell'altezza di moto di forme HU ho detto che la corrente deve diventare lenta allora passo con lo stesso livello energetico sul ramo delle correnti lente e trovo un'altezza di corrente lenta che non è sufficiente a passare la briglia non è sufficiente perché ha un contenuto energetico tale per cui se mi appasso di M vado sotto al minimo allora che fa la corrente lenta? si alza e lo può fare lo può fare perché essendo lenta è influenzata da valle quindi e può essere influenzata dalla briglia che vuole passare la corrente si alza fino a raggiungere un'altezza H di monte quanto vale quest'altezza H di monte lo trovo su questo grafico in corrispondenza del livello energetico tale per cui il livello energetico dell'altezza H di monte meno M è proprio uguale al livello energetico minimo E di K quindi io partendo dal livello energetico minimo sul ramo delle correnti lente mi alzo di M e trovo quest'altezza H di monte sentate che qua la congiungo eccola qui ho ragionato solo sull'energia cioè impongo la corrente di raggiungere l'energia minima per passare con lo stacolo e impongo la corrente di lavorare sul ramo delle correnti lente perché lo stacolo si trova male e allora trovo quest'altezza H di monte attenzione quest'altezza H di monte io la posso piazzare qui la corrente passerà di qua questo è HM scusatemi H di monte lo scrivo qui H di monte bene e allora io so per certo che la corrente passa di qua la stessa situazione si presenta nella briglia di valle quindi la riscrivo qui H di monte perché è simmetrica la situazione cioè è la stessa situazione traslata a valle e quindi qua posso riscrivere H di monte molto bene il profilo passerà di qui prossima domanda che vi faccio quanto vale l'altezza della corrente sulla cresta della briglia la cresta della briglia si chiama gaveta questo è un nome che dovete memorizzare si chiama gaveta quindi da un po' io dico quanto vale l'altezza della corrente sulla gaveta della briglia beh lo vediamo sempre da qui passiamo di M e arriviamo all'altezza K quindi portiamo sull'altezza della briglia l'altezza K sulla gameta della briglia scusate l'altezza K ecco questo raccordo tra l'altezza H di monte e l'altezza K lo facciamo a sentimento lo facciamo a sentimento perché un raccordo viene fatto in un punto in cui c'è una discontinuità alla briglia quindi non possiamo raccordare con le equazioni di SMA vedete che pian piano ci stiamo muovendo stiamo identificando quel profilo bene poi a valle della briglia immediatamente a valle la corrente cade quindi qui ci verrà un oggetto la situazione è simmetrica ci verrà un oggetto allora intanto l'esperienza suggerisce che quando la corrente esce dalla briglia esce dalla gaveta quando il getto esce dalla gaveta la chiamata o lo sbocco la chiamata di questa cascata fa appassare l'altezza in uscita che non è più pari a K cioè se noi andiamo a considerare proprio il limite della briglia l'altezza della corrente è un po' inferiore a K empiricamente l'esperienza suggerisce di considerare un'altezza che è pari a 0,7K la stessa cosa qui la larghezza che hanno le briglie tradizionalmente è una larghezza che può essere di un metro fino a un paio di metri fa sì che l'altezza K si verifichi proprio in corrispondenza del centro della gaveta però quando la corrente per effetto della chiamata lo sbocco lascia la gaveta per gettarsi a valle ha un'altezza più ridotta e l'esperienza si interisce di prendere 0,7K ecco perché noi siamo interessati a questo valore siamo interessati perché vogliamo conoscere la velocità con la quale la corrente esce dalla briglia cioè noi qui vogliamo conoscere la velocità ecco perché lo vedremo nel dettaglio tra qualche minuto la vogliamo conoscere perché vogliamo calcolare il punto d'atterraggio del getto e il punto d'atterraggio del getto dipende chiaramente dalla velocità d'uscita e quindi siamo interessati a sapere quanto vale questa velocità d'uscita ecco il punto d'atterraggio si determina percolando trattando la corrente come un grave che cade nel vuoto un grave però che è dotato di velocità orizzontale dato dalla velocità di uscita lo vedremo tra un attimo come fare questo caso bene ora a questo punto la prossima domanda è bene la corrente è a terra e assumiamo per adesso di avere calcolato questa lunghezza l1 assumiamo l'averla calcolata quindi di sapere dove atterra ecco posticipo questo calcolo perché voglio invece adesso concentrarmi rimanere concentrato concentrare la vostra attenzione sull'altezza d'acqua che si verifica nel punto d'atterraggio ecco nel punto d'atterraggio e questi momenti importanti che noi studiamo l'altezza d'acqua perché perché quella rappresenta per noi la condizione del contorno per partire verso l'avale tracciare il profilo e dobbiamo sapere ripeto l'altezza d'acqua nel punto d'atterraggio ok intuitivamente attenzione intuitivamente quanto la prima domanda è la corrente nel punto d'atterraggio è veloce o entra questa è la prima domanda beh innanzitutto tenete presente che si tratta di una corrente che cade nel vuoto quindi non può che essere veloce e non può che essere veloce perché perché cadendo nel vuoto è influenzato da un ostacolo che sta a monte quindi non può che essere veloce quindi la prima domanda è liquidata cioè la corrente che atterra da una cascata non può che essere una corrente veloce perché ripeto è condizionata da un ostacolo che sta a monte bene allora adesso la seconda domanda è con quale altezza la corrente atterra cioè qual è l'altezza d'acqua che si verifica nel punto d'atterraggio e ripeto è interessante chiedersi è una corrente veloce ma l'altezza d'acqua nel punto d'atterraggio è minore uguale o maggiore a quella di moto uniforme bene allora intanto pensate che quella corrente rispetto alle posizioni di moto uniforme che cosa ha fatto ha risparmiato energia perché non è in grado di passare la briglia adesso la passa e quindi vuol dire che ha aumentato il proprio livello energetico se voi guardate quel grafico nel ramo delle correnti veloci osservate che a un incremento del livello energetico corrisponde una diminuzione di energia quindi sicuramente una diminuzione di altezza quindi sicuramente nel punto d'atterraggio la corrente avrà un'altezza inferiore quella di moto in fondo ok allora vediamo trovandoci questa altezza allora qual è il livello energetico della corrente ma è questo qui no questo qua che io trovo sul ramo delle correnti lente questo è il livello energetico però lo devo trasferire sul ramo delle correnti veloci se voglio provare la testa di Mario quindi qua di un'orizzontale fino ad arrivare sul ramo delle correnti veloci da quel ramo scendo con una verticale e qui trovo che cosa HD vale eccola qua che come vedete è inferiore alla testa di moto in fuori quindi quella è la mia altezza che riporto qua sul punto d'atterraggio anche di valle quindi il mio profilo ripartirà da qui e quindi qui avremo al nostro punto d'atterraggio la corrente che arriva fa un gran ribolire e poi riparte da questo punto va da sé che quel punto d'atterraggio deve essere protetto questo lo impunite già da subito è la corrente a terra lì se lì non proteggiamo e lì scava un buco poi e tenete presente che la capacità erosiva dell'acqua nel lungo periodo è impressionante avrete sicuramente digitato qualche volta delle barbitte dei giganti che cosa sono le barbitte dei giganti sono degli enormi specie di pentola in negativo che si trovano alla base di vecchie cascate di cascate che non esistono più ma si trovano anche alla base di tutte le cascate perché l'acqua cadendo nel punto d'atterraggio che cosa fa? scava un buco che diventa una specie di pentola in sostanza quindi si chiama la barbitte dei giganti quindi quel punto d'atterraggio dovrà essere protetto adeguatamente altrimenti che cosa succede? che lì la corrente scava un buco questo buco è immediatamente a valle della briglia poi da monte la corrente spinge sulla briglia quindi la briglia è costa quindi lì andrà sicuramente protetto vedremo come fare punto bene ok adesso a questo punto smetto di fare di disegnare qua a valle perché adesso mi concentro solo sul tratto intermedio a valle dovrei disegnare lo stesso profilo traslato verso valle però a me invece adesso interessa di capire che succede qui perché adesso qui io mi ritrovo con una corrente che ha altezza inferiore all'altezza di moto uniforme e mi aspetto che verso valle tenda assintopicamente all'altezza di moto uniforme questo mi aspetto però in basso ho una corrente lenta una corrente lenta che risale verso monte con questo profilo qua perché è una corrente lenta in un albio a forte pendenza e quindi tende all'altezza critica con tangente verticale quindi praticamente qui mi ritrovo con un profilo di questo genere e vedete che i due profili si sovrappongono questo è normale perché vi ho detto che in un tronco in generale in un tronco d'albio possono verificarsi sia un profilo di corrente veloce che un profilo di corrente lenta e adesso bisogna capire chi vince no? cioè bisogna capire dove che cosa succede e dove questi due profili si incontrano bisogna capire dove si incontrano e che cosa succede in pratica ci troviamo a affrontare il problema del passaggio da corrente veloce a corrente lenta questo è un problema interessantissimo anche molto bello perché come vedete si verifica qualcosa di facilmente osservabile e cerchiamo di capire che cosa succede prima intuitivamente allora immaginatevi questa situazione e immaginatevi di trovarvi su un corso d'acqua e di guardare questa situazione avete una corrente veloce che scende da monte con un carico energetico molto alto perché addirittura ha un'altezza inferiore a quella di moto uniforme quindi questa è una corrente che da monte scende quasi come se fosse un'aria eteno lanciata e si lancia verso valle contemporaneamente a valle che cosa vedete un muro d'acqua molto lenta però siccome è molto alto questo muro anche questo come dire esercita una propria corsa verso monte perché immaginatevi un muro d'acqua che cosa fa tende chiaramente quest'acqua da qui ad andare verso monte con molta energia pure questa è lenta però comunque molte energie ecco queste due correnti è intuitivo che a un certo punto si trovano in conflitto quella da monte che cerca di andare verso valle e quella lenta di valle che cerca di andare verso monte quindi a un certo punto ingaggiano un conflitto e questo conflitto è un conflitto di spinte cioè l'una spinge l'altra capite che se quella di monte è molto forte spingerà la corrente lenta verso valle al contrario la seconda di valle molto alta spinge la corrente veloce verso monte ecco io uso la parola spingere e sono passato dal concetto di energia a quello di spinta perché qui si tratta proprio effettivamente di due correnti l'una che spingono l'altra da una parte o dall'altra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti